Ciao a tutti, sono Giorgia, parlo di libri e fumetti e funziono a obiettivi. Quindi, visto che ormai è circa tre anni che ho separato la libreria delle cose che devo ancora leggere da quella delle cose che ho già letto, che è al piano di sopra, dove di solito faccio i miei video, ho deciso che devo fare qualcosa per smaltire tutta questa roba. Il problema è che, secondo i calcoli che avevo fatto quando avevo diviso tutti i libri e i fumetti, ci avrei messo circa tre anni senza comprare nulla per smaltire tutto. Ovviamente ho continuato a comprare cose, parecchie, e dopo tre anni la situazione è la stessa, anzi qui al carrello si è giunta una pila di roba che non so dove mettere, e ho dovuto ricominciare a fare le doppie file. Quindi voglio davvero finire tutto quello che ho alle spalle in tre anni, nei prossimi tre anni. E ora mi metto a fare due conti di che cosa dovrei leggere, anche perché mi piacerebbe trasformare questa libreria qui dietro in una libreria tipo divisa per tematiche. Mi piacerebbe avere un cubotto solo con i libri che ho letto, con il book club, uno con tutta la roba legata a Tolkien, cose di questo tipo. Quindi devo sguotarlo. Il mio obiettivo sarebbe riuscire a tenere tutte le cose che devo leggere solo nel carrellino, ma vediamo, vediamo, mi metto a fare i conti, perché sono convinta che se divido, se mi segno le cose che devo leggere ogni tre mesi, io riesco a smaltire davvero tutto questo macello. Non so se sarà davvero così, però funziona ad obiettivi. Quindi magari così ce la faccio. Ovviamente saranno calcoli molto, molto, molto indicativi, perché non ho intenzione di mettermi a contare in tutto quanto, e prenderò per buono quello che mi dice Goodreads, e a fine luglio, secondo Goodreads, i libri che ho in libreria, che devo ancora leggere, erano 284. Ok, sono calcoli assorti, ma può avere senso, considerando che un video del genere avrebbe senso farlo a inizio anno, a settembre, nei momenti in cui le persone normali iniziano questi progetti. Siamo a metà agosto, e io ho due settimane di ferie. Nella settimana di luglio, in cui ero in ferie, ho letto tantissimo, quindi, cioè in ferie, vabbè, ero a casa, e ho fatto il reading blog in montagna, ho letto tantissimo, quindi magari riesco a ripetere questo mese, e facciamo che agosto e settembre li conto come se fossero tre mesi, e poi vediamo di procedere con questa cosa, se funziona. Per fare quello che ho appena detto, dovrei scegliere un'area, e leggere tutto quello che c'è lì dentro tra agosto e settembre. Dando un occhio, l'area che ha più senso scegliere è questa, per un motivo molto semplice. C'è un fumetto qui dentro che so che leggerò a settembre, perché settembre è il mese di quest'anno in cui tocca a me scegliere il libro del gruppo di lettura, e ho proposto questo fumetto, quindi leggeremo insieme Blankets, e visto che Blankets è in questo scaffale, diciamo che vince questo scaffale, così parto con un po' di vantaggio. Vediamo che cos'altro c'è. Questa è appena diventata una sorta di TBR di agosto e settembre, vediamo se può funzionare. Allora, ci sono due fumetti legati a, mentre per esempio li spolvero perché è un po' un disastro, a Dungeons & Dragons in maniera diversa, Ravenloft, e un fumetto su Stranger Things. Il secondo volume di Stillwater, non mi era piaciuto tanto, infatti sono molto curiosa. Poi qua ci sono cose della Marvel e parecchia roba di panini. Però iniziamo dalle cose che non c'entrano invece con ciò che ho appena detto. Il quarto di Loro Olympus, tra l'altro mi era venuto il dubbio di averlo già letto, sfogliando l'anteprima in cui veniva annunciato il quinto, invece no, il quinto è in uscita, quindi leggo il quarto molto volentieri, così arrivo preparata. La serie di Oblivion Song dove mi sono fermata, quindi 4, 5 e 6, mi stava piacendo, poi me la sono un po' scordata in libreria. Questo è un volume in inglese che avevo trovato dentro Loot Crate, onestamente è una, Loot Crate è una di quelle scatole con cose random, un po' a sorpresa dentro, e onestamente questo non è che mi interessi molto, lo metterò su Vinted. Questa cosa mi aiuterà anche in questo senso. Tre volumi di Mercandolfo legati al mondo di Sweet Paprika, il numero tre nella versione normale con la copertina Variant e nella versione Hot Paprika è la conclusione della serie e il volume Sweet Paprika, Black, White and Pink. Il volume 7 di Sunstone, Mercy, amo molto Sunstone, quindi è strano che questo sia ancora qui, e in effetti hanno anche un legame tra gli autori questi fumetti, Swing, il secondo volume. Due volumi delle serie Young Adult della Marvel, Spider-Ham, Grandi Poteri e Nessuna Responsabilità e Miles Morales on the Durto. Per ora quello che ho letto su Miss Marvel di questa serie mi era piaciuto, quindi ho fiducia. Ok, mi sono appena accorta che questo maiale sta mangiando un hamburger, lo trovo assolutamente inquietante, ma vabbè. Nuovi modi per morire, Spider-Man, il primo volume di The Legendary Collection. Avevo fatto un video su questa serie di fumetti in uscita in edicola. Avevo un po' analizzato quanto valesse la pena l'acquisto di questa serie, più che altro per me, perché volevo capire se ha senso farla. Fortuna che non l'ho fatta, perché il primo è ancora in libreria da leggere. Poi, un volume distrutto il primo della serie oro in uscita con La Repubblica del Buomo Ragno. Credo che dentro ci sia l'inizio di Ultimates. Vabbè, comunque questo l'ho trovato in giro, voglio leggerlo. Manca ancora un sacco di roba, mi sto rendendo conto che potrei non farcela, ma mai, a leggere tutta questa roba. I brossurati di Spider-Gwen che mi sono rimasti, Party People, Gwenverse e Cloni Ombra. Altri brossurati Marvel, questo è legato a Devil's Reign, il pugno di Fisk, mentre questo è legato a un altro evento, cioè King in Black. L'avevo preso principalmente perché è il volume che lega sempre Venom, a Wen. Questo cartonato, Avengers, basta bullismo. Ottanta meravigliosi anni, la vera storia di un fenomeno della cultura pop. Questo era uscito per gli ottanta anni di Marvel. E... non è un fumetto. Racconta un po' tutta la storia della Marvel, storia che a grandi linee conosco, ho letto varie cose in realtà in merito e... l'avevo presa all'uscita poi l'ho sempre rimandato, ma... può essere un buon modo, un buon modo. Ah, poi, volume Marvel Kids, Peter Parker, e Miles Morales, Spider-Man, doppia dose di guai. Io l'unico volume di questa serie che ho è quello degli X-Men e... quello l'ho messo in vendita su Vinted, quindi spero che questo mi piaccia un pochino di più. Non so nemmeno se è un volume unico o se c'è stato, ci sarà un seguito. Ma questo è una lettura molto rapida. Per finire, ultimo volume qui dentro, Shanna di Frank Cho. L'avevo preso a Lucca a una bancarella a un prezzo ridicolo. La roba da leggere è tanta, è una pila notevole e vediamo di questi che cosa riesco a leggere tra agosto e settembre, considerando che l'unica certezza di settembre è Blankets. E quasi quasi l'unica certezza di agosto potrebbe essere non so da cosa iniziare, perché stavo pensando di scegliere un fumetto da andare a leggere proprio in questo momento, ma non ho idea di cosa iniziare ora. Vado del terzo di Mirkandolfo con Sweet Paprika e Hot Paprika che leggo insieme, visto che l'unica differenza è in alcune tavole che in Hot Paprika sono per un pubblico adulto. Ne tolgo due dalla pila contemporaneamente e sono una lettura certa perché vado a leggerli in questo momento. Metto in pausa il video e vado a leggerli. Ora, per fare un lavoro intelligente e non rimettere tutto qui potrei metterci già, destinarlo già a qualche cosa che voglio spostare. Ma visto che ho dei fumetti dappertutto, direi che ci metto invece le doppie file, tra virgolette. Sì, dai. È incredibile. ho sistemato dei nuovi fumetti nello spazio in cui prima c'erano quelli che leggerò e così mi sembra di non aver risolto niente. Vabbè. Inutile farsi troppe domande in questo momento. Vediamo se questa strategia mi aiuterà a smaltire la pila della vergogna che nel mio caso è la libreria della vergogna. Ora che ci penso se non smaltisco e inserisco anche qualche romanzo i romanzi non li smaltirò mai. quindi peschiamo le due da qui. Due perché vorrei pescarne tre cioè almeno uno al mese ma visto che questa volta saranno due i mesi ne peschiamo solo due e vediamo come va. Vediamo qua che cosa c'è soprattutto se è un romanzo no? È un fumetto. Anche questo è un fumetto. Niente. Perché poi sono molti più fumetti. Dovrei leggerli così si vede che sono onesta. Questo è Buste di poesia. Buste di poesia è uno dei libri del saggiatore che ho trovato nel calendario dell'avvento. Però quei libri li ho divisi con mia sorella quindi quello potrebbe averlo in libreria mia sorella. Sì ce l'ha lei. Mi rifiuto di chiedergli un libro quando io sono piena. Quindi anche quello non va bene. Ah Streghe postmoderne era nel nel vaso ma l'ho già letto quindi lo butto. Non mi è piaciuto molto. Tutto ciò che poteva rompersi. Questo ce l'ho ho cercato per sicurezza ma è su ed è uno dei libri di accento. Dopo lo vado a prendere. Il primo selezionato vediamo il secondo. guerra e pace lo ripiego lo metto via. No non sono psicologicamente pronta. Le origini del fumetto ho su anche questo dai ha senso. no non ha senso leggo già i 80 meravigliosi anni un saggio sul fumetto per volta dai Batman una morte in famiglia fumetto Peter Parker Mice Morales Spider-Man tra l'altro è uno dei fumetti che sono di là quindi tolgo il bigliettino tra ciò che sono già stati selezionati per leggerli in questo mese. Altro bigliettino con un libro che ho già letto cioè Libertà Condizionata anche questo l'ho buttato Braille Academy fumetto Manuale di Caccia e Pesca per Ragazze secondo libro secondo libro accendo vado su a recuperarli anche quei libri in effetti qua non ci sono stati e quindi sono in un altro posto eccoli questi sono i due romanzi i due libri che cercherò di leggere tra agosto e settembre e magari mi tiro fuori fuori dal vero video qualche extra del seggiatore che tra quelli che erano nel calendario dell'avvento per cercare di portare a termine anche quelli forse ho già messo troppa roba forse è davvero troppa troppa roba ma ci voglio provare vediamo piccolissimo aggiornamento tra un mese e l'altro questa è la situazione al momento e sono le cose che mi ero prefissata di leggere che sono rimaste questa l'unica cosa che ho in lettura al momento cioè tutto ciò che poteva rompersi quello che è sparito di qui è perché l'ho letto ma credo che quando uscirà questo video ne avrò parlato nelle letture di agosto quindi cosa mi è rimasto Blanket che leggerò col gruppo di lettura se volete unirvi a noi ci sarà anche un carantelgram in cui commentare la lettura poi in realtà i fumetti di cui avevo già parlato qua non ci sono altre novità anche di Blanket avevo già parlato cui romanzi è andata molto bene e sono rimasti ne ho tolti un paio di desaggiatore che in realtà erano rimasti qui in più Supererò in crisi che sto continuando a leggere insieme al gruppo di lettura quindi procedo al ritmo del gruppo di lettura Prendila così di Didion e Il grande libro del vintage spero a settembre di riuscire a concludere sono due romanzi due romanzi in realtà due libri perché non so cioè sicuramente Il grande libro del vintage non è un romanzo prendila così non lo so e devo finire questo quindi diciamo due libri e mezzo da finire e 13 fumetti sono tanti in realtà però spero di farcela e soprattutto spero di farcela non lasciando delle letture indietro quindi leggendo tutto quello che ho acquistato per questo mese è andata bene perché avevo letto tutto ciò che avevo acquistato fino all'ultimo giorno del mese poi l'ultimo giorno del mese sono andata in fumetteria quindi non sono più riuscita a mantenere questa cosa però era inevitabile visto che potevo andarci solo quel giorno ma faccio i conti di leggere le cose che ho comprato ieri al più tardi durante la prossima settimana quindi speriamo vediamo come va poi magari se questo progetto va avanti trovo un'inquadratura un po' più felice di questa cosa buia e strana ma questo al momento è il mio comodino quindi mi stavo scordando di una cosa secondo il mio profilo goodreads che a inizio agosto era comprendeva 284 libri ancora da leggere in libreria ora siamo a 274 quindi sono 10 in meno e che non è sufficiente per arrivare a zero tra o quasi tra tre anni ma un passo alla volta sono felice bene ma non benissimo con questi ritmi non arriverò a zero o quasi tra tre anni ma intanto ho iniziato quindi in realtà sono soddisfatta questa è la situazione a fine settembre poteva andare meglio poteva andare molto peggio proviamo a vederla meglio più comodi magari è ottobre è inizio ottobre quindi è il momento di vedere com'è andata come sono andati i primi due mesi che dovevano rappresentare un po' quegli estivi e preparare libri e fumetti per il periodo autunnale per i prossimi tre mesi tra l'altro io non ho riguardato nessuno dei video che ho registrato prima di questo momento quindi potrei addirittura a contraddirmi nello stesso video perché ovviamente voi lo vedrete montato in una maniera più o meno sensata vediamo quante volte riesco a contraddirmi che cosa mi è rimasto da leggere l'ho mostrato in un video circa sto leggendo prendiamola così di Didion mi mancano pochissime pagine cioè davvero a cavolo mi mancano proprio tre capitoli ma effettivamente ancora non l'ho finito questione di poco e sono in lettura con Supereroi in crisi che sicuramente finirò ad ottobre quindi questi due restano in un angolo e restano anche nelle letture che farò a ottobre poi come romanzi mi era rimasto solo il grande libro del vintage che in realtà non è un romanzo ma un saggio che rimetterò che rimetterò nel carrellino che ho qui dicendo anche a me con i romanzi tre come fumetti mi sono rimasti questi e questi qui che erano questi sono cose che ho comprato ad agosto e che non ho letto nel mese sono rimasti li metterò in fila e vedrò un po' quando riuscire a leggerli gli spillati li devo tenere separati i fumetti che mi sono rimasti sono principalmente Spider-Man quindi Nuove modi per morire L'uomo ragno della serie Oro Ottanta meravigliosi anni La vera storia di un fenomeno della cultura pop Sunstone Mercy tra l'altro dovrebbe aver rinunciato il nuovo volume e Spider-Gwen Devil's Reign e per ultimo Avengers basta bullismo con Spider-Gwen sono riuscita a leggere in realtà parecchi brossurati non dico che sono in pare ma quasi me ne mancano due e ho capito che è il problema del piano che avevo cioè se leggo tutto un cubo finisco per avere cose molto simili una dietro l'altra ho bisogno di variare un pochino quindi la razio è più o meno sempre la stessa ma inizio a preparare le cose per l'autunno con una piccola pila di fumetti che mi sono già tenuta da parte queste sono le cose che ho acquistato nel mese di settembre che voglio leggere subito non voglio rimandare e non le voglio rimandare perché sono tutte cose che hanno in un certo senso un legame con sono queste con Luca Comics quindi vorrei leggerle prima di andare a Luca Comics e ora inizierò a svuotare cose che voglio leggere prima di andare a Luca oppure cose che ho acquistato l'anno scorso o negli anni passati a Luca sposterò un po' di cose comunque alla fine questo deve essere vuoto parto con le cose più facili cioè le autoproduzioni che non ho ancora letto c'è una piccola rana come autoprodotti ho questa zin sulla bellezza un volume dal titolo Giada di Amianto il secondo di Grimorio il primo mi era piaciuto molto vorrei leggerlo prima perché se mi piace come il primo voglio acquistare il terzo poi mi devo mettere in pari con le uscite di Tulu Chronicles Xenax a Star is Burn e Amianto il numero sul colore blu tra l'altro è l'unico che ho quindi se sono ancora disponibili gli altri colori potrei approfittarne è un po' il motivo per cui vorrei leggerli prima di vorrei leggere anche un po' dei numeri della Revue desinè che ho comprato l'anno scorso avevo fatto l'abbonamento durante il Luca Comics non ho rinnovato l'abbonamento non lo farò nemmeno a Luca perché ho deciso di non supportare più la Revue desinè a mio malgrado perché a me il progetto interessava molto ma nella descrizione del video se siete curiosi vi lascio un documento molto chiaro che spiega le motivazioni Grande Oceano è un volume che ho acquistato a Luca quindi finisce nella pila come guida e ragionata all'universo di Zero Calcare è una cosa che leggerò molto rapidamente quindi ha senso che stia qui Le Guerriere della Valle è uno dei volumi che volevo comprare da casa cioè che erano esattamente nella mia lista della spesa per il Luca Comics un anno dopo è ancora qui quindi finisce nella lista per lo stesso motivo c'era una volta alla fine del mondo di Jason Aaron che tra l'altro sarà a Milano al Cartoon X il mese successivo se non ricordo male magari riesco ad andare chi lo so poi quelle cose che mi porto da Luca direi che ho finito c'è un sacco di roba qua davanti ma vabbè guardo che cosa mi resta qui Info Comics i segreti dei supereroi e degli altri personaggi del fumetto è un libro principalmente di infografiche quindi in realtà è un ottimo jolly poi vorrei leggere visto che ho tante cose sue che non ho letto ma che ho già in libreria una cosa a stagione di Moore parto da Lost Girl volume 1 Ragazze perdute di Alamore e Melinda Gabby Human Target di Tom King è arrivato il suo momento vediamo qua c'è Raven di Cammy Garcia questa è la serie Young Adult di DC pubblicata con Castoro con il Castoro e tutti quelli che ho letto finora mi sono piaciuti voglio leggere questo sì Batman The Brave and Bold La carta vincente anche questo scritto da Tom King è il primo volume della serie e lo metto nella pila con gli ultimi due che sono GCPD Il muro di gomma e Harley Quinn la serie animata un sacco di vipistrelli questo è il seguito il primo lo avevo letto mi era piaciuto un sacco non so perché ho aspettato tanto a ritirare fuori questo ora questo è vuoto quindi ho scelto i fumetti che voglio leggere in questa stagione ci saranno anche i tre libri del book club uno per ogni mese oltre questo ci saranno per quanto mi è possibile vediamo come va due fumetti al mese che leggerò insieme al gruppo di lettura di Barta mi sta prendendo benissimo quindi voglio continuare a seguire il gruppo per finire servirebbero tre libri dal carellino che pesco da questo vasetto vediamo cosa esce potrebbero essere facilmente fumetti o cose che ho già letto e non ho buttato il bigliettino tipo il primo è Hot Paprika che è uno di quelli che ho letto Generation of Love ce l'ho lo vado a prendere Generation of Love di Matteo Bibianchi questo è il primo La mia vita con Dalì e che dovrebbe essere sempre qua è uno di quelli del saggiatore che tra l'altro avevo molta voglia di leggere perché mi è capitato di recente di ascoltare il podcast Morgana hanno dedicato un episodio proprio ad Amanda Lear l'autrice di questo e mi è piaciuto mi ha incuriosito il podcast mi ha invogliato a leggerlo visto che lo avevo già in casa e poi in realtà non è in casa c'è la mia sorella e e glielo chiedo no dai riesco un altro bigliettino tanto me lo passerà quando lo avrà letto lei come una balena come una balena è qui di Nicoletta Vallorani ce l'ho fatta è un romanzo un romanzo tra l'altro credo per bambini l'ho preso in una biblioteca che vendeva un po' di un po' di vecchi libri quindi ho trovato il secondo ah c'è l'ultimo la ragazza garbatella deve essere di accento quindi devo andarla a recuperare eccolo ho tre romanzi una tonnellata di fumetti ora rimetto un po' in ordine tutto quello che ho qui tolgo qualche doppia fila quindi finirò per riempire di nuovo anche questo scaffale credo ma vediamo una delle cose che ho sbagliato nell'ultimo mese nonostante questa idea continui a piacermi poi vediamo come andrà è stato che ho ignorato troppo le cose che ho acquistato nell'arco del mese mi sono concentrata effettivamente solo sui recuperi questa cosa non deve ricapitare perché se no non smaltirò effettivamente tutto quanto quindi quindi vediamo sistemo qua ah cavolo c'erano anche questi due vabbè ci metto anche questi due in non com e giocare il mondo sì quanto qua la fila è in mezza così saranno in più o in meno ok qui è di nuovo pieno ma sono riuscita quasi a eliminare totalmente la doppia fila che c'era qui ora ci sono rimasti solo questa è questa di doppio filo questo è qui dietro vabbè chi se ne frega vediamo come andranno le letture autunnali incrociamo le dita io cercherò di documentare anche mese per mese a grandi linee che cosa è rimasto vi lascio con una carrellata dei titoli non li mostrerò uno a uno perché sono davvero troppi e vediamo come va con alcune postille tipo che se vedo che qualcosa non mi interessa più non mi sta piacendo lo vendo senza troppi sensi di colpa cosa che ho fatto anche quest'estate e vediamo finita la carrellata vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao